www.fpv.s 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 Vo' la sannuaria capi natino o dì ho tutto guardato mija l'ho pronto li MOI O Grazie a tutti 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 Pezzo di merda Pezzo di merda Noi ma è stata l'altro proprio Oh ma è stata l'altro Oh ma che ha c'è l'audio? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti che intupezzano che ho chiamato perché non c'erano macco mille euro po' catanoia c'è chi cazzo aperto quella porta di merda chi la chiusa chi l'ha aperta e la chiusa chi l'ha aperta e la chiusa cinque secondi fa ma no lo sprodo in testa ma la mente come prima come prima politica su di motivo perché una acqua a città veramente sono al 90 per cento di calcio il gioco veramente il momento ok 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 C'è in due, c***o sono C'è mi sono attuquato da solo, non ci posso credere Io voglio vedere che c'era qualcuno veramente, non lo voglio vedere Ma voglio vedere che c'era qualcuno che camperava, voglio vedere Non mi sa, non mi sa, non mi sa Quanta button, triche Cueve validò come visto quindi oltre 3, 4. faccio quando sono nata alla finale non c'è nessuno ma c'è ma veramente ma chi schifo è ma a tutti tutti il certo grigio della nuova se il sole mi sa della nuova sinistra un certo grigio della nuova season mi sa c'è ma che madonna che schifo porco dio veramente guavo faccio caldi di sopravvivere ma non ce la fa fammi dove minchiera fammi vedere ma non ce l'ha fatto vedere non ce l'ha fatto wow 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 wow